L'annuncio è arrivato con un video in cui la stessa principessa Keita ha rivelato al mondo che ha un cancro e sta affrontando una chemiotera. Succede dopo che a gennaio Kensington Palace aveva ufficialmente dato notizia dell'intervento di chirurgia addominale al quale era stata sottoposta, definendo improbabile che tornasse all'impegno. Succede dopo che cosa può essere successo? Prova ad analizzare la situazione il chirurgo Marco Antonio Zappa, super esperto di chirurgia oncologica e la paroscopia. Al di là delle considerazioni che si possono fare, riflette lo specialista che in autunno corò Fedez per il sanguinamento di due ulcere, ci sono delle percentuali in cui si operano pazienti. Al di là delle considerazioni che si possono fare, riflette lo specialista che in autunno corò Fedez per il sanguinamento di due ulcere, ci sono delle percentuali. Poi però una volta mandato ad esaminare l'esame istologico in totale, si vede che risulta essere un adenocarcinoma dell'intestino. Se la principessa fa la chemioterapia è molto probabile che ci siano anche dei linfonodi. Noi non sappiamo dove abbia il tumore la principessa e, se seguiamo il suo video, lei dice che è stata operata e poi è risultato essere un tumore. Seguendo questa linea, potrebbe essere stata operata quindi per un polipo con cellule atipiche che occludeva l'intestino e, una volta resecato, si è accertato che si è trattato di un adenocarcinoma. Seguendo questa linea, potrebbe essere stata operata. L'annuncio della principessa del Galles-Ketrin arriva dopo settimane di speculazione sulla sua salute. In passato, fra le varie ipotesi, una in particolare era stata più volte citata, quella di una diverticolita. Anche questa è un'ipotesi. Ragiona Zappa, considerato un'eccellenza italiana nel settore, la diverticolita acuta molte volte provoca un'astenosi dell'intestino e quindi necessità di. Anche questa è un'ipotesi. Può darsi che lei sia stata operata per diverticolite e poi dopo nell'esame istologico sia emerso che era invece un tumore, probabilmente del sigma, perché i diverticoli nel 90% può darsi che lei sia stata operata per diverticolite. Quindi questa è un'altra ipotesi. Quanto al tempo di recupero e al percorso che si prospetta ora per la principessa, impossibile dirlo, ovviamente, puntualizza Zappa. Noi non abbiamo idea di che tumore si è e di che gra. I tumori si distingono e si classificano in base alle dimensioni. Indicatore che viene citato con la lettera T, ha un parametro che si indica con N e che sono i linfonodi, e al Gredi. I tumori si distingono. Noi non abbiamo nessuna notizia. Si può ipotizzare che, se fa la chemioterapia, qualche linfonodo si è interessato ed essendo una donna di giovane età la chemioterapia è anche profilattica, cioè ha un valore pre- Il messaggio che emerge dal video di Kate è che chiunque può vivere l'esperienza di un canto. Talvolta l'impressione che si ha è che qualcuno che vive da principessa invece il messaggio fondamentale che è passato è, guardate che è toccato anche a me, riflette. Kate ha citato la sua giovane famiglia e spiegato come la notizia sia arrivata come uno SOC, lasciando trasparire il peso della situazione, ma senza rinunciare a una nota positiva. Quando Kate ha citato la sua giovane famiglia e spiegato come la notizia sia arrivata come uno SOC, lasciando trasparire il peso della situazione, ma senza rinunciare a un non siete su tutti possiamo scontrarci con anche chi vive una figurarsi tu e la prevenzione è fondamentale. L'esame del sangue occulto nelle feci o una colonoscopia dopo i 50 anni sono elementi fondamentali per chiunque, conclude.